Antonina Rodagna come è nato questo progetto del servizio sospeso allora io mi ricordo sempre che a Napoli fanno il caffè sospeso su questo abbiamo parlato con il signor Guzzetta e lui ha pensato di fare anche questo non era neanche incominciato e io già avevo messo dei soldi da parte dei miei clienti perché hanno sentito questo progetto e una settimana fa è entrata una signora che capivo che aveva bisogno perché si deve capire perché ci sono tante persone che non hanno di bisogno e si vogliono approfittare di tutto questo aveva bisogno di qualche cosa io in quel momento ho detto guarda il tuo taglio è stato omaggiato dice chi me l'ha omaggiato? Il sospeso e poi ho telefonato il signor Guzzetta tra questa telefonata lui ha lanciato subito questo questo progetto capito? Lei ritiene che anche nelle prossime settimane diciamo il bisogno purtroppo c'è possa esserci la necessità di beneficiare di questo servizio? Io penso di sì dobbiamo perché se possiamo lo faremo tutti ci sono tanti altri miei colleghi qui a Sciacca fuori Sciacca che stiamo presentando questo progetto Ecco generalmente le vostre nelle vostre attività si discute si ha la possibilità di avere anche un rapporto a volte anche di amicizia con i clienti lei da questo osservatorio riscontra che c'è tanto bisogno a Sciacca al di là della questione relativa al servizio per i capelli si tantissimo Sciacca si sente tantissimo che abbiamo hanno bisogno perché con il lavoro sappiamo molte persone sono a casa molti hanno non hanno uno stipendio fisso come lo avevano una volta adesso c'è molto meno e lo sento qui mi è capitato qualche settimana fa un sabato dovevano essere un bel guzzoletto di persone che doveva venire quattro non mi hanno mi hanno distretto motivo non me l'hanno detto devo dire che non me l'hanno detto ma sospetto anche che c'è un problema economico tantissimo